Dalle colonne della Sicilia, l'amministratore delegato del Catania, Pietro Lomonaco, in foto, ha svelato una novità per quanto riguarda il calciomercato. Ecco uno stralcio delle sue parole così come riportato da Neves Catania. Pisseri ha firmato il rinnovo del contratto. Se uno o due anni. Ci sono delle clausole che non voglio dirvi. Il mio sogno è di vederlo giocare nella massima serie.